Benvenuti al Veggie Cookie Show, oggi facciamo una ricetta dolce, ovvero il mousse di tofu e cioccolato Iniziamo subito con gli ingredienti Tofu al naturale, cioccolato fondente, latte di soia e sciroppo di dattero In questo caso abbiamo utilizzato lo sciroppo di dattero, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di dolcificante Come ad esempio l'agave o l'acero e così via Allora, iniziamo subito? La prima cosa che facciamo è sicuramente sciogliere in bagnomaria il cioccolato Aggiungiamo un po' di latte di soia Il tofu Aggiungiamo anche un po' di dolcificante Frulliamo tutto Diamo un'ultima giratina col frullatore E' tutto pronto per essere versato nelle coppette L'emousse al cioccolato e tofu è pronta Questa la possiamo anche mettere nel frigo di ferro per un paio di ore per farle vivere ancora più solide O anche mangiare così Io direi che mangio asciutto subito Buon appetito!